ciao a tutti allora finalmente dopo lunga agonia mi è arrivato almeno il primo ordine che avevo fatto da beauty space nail grazie a gls è tutto fermo ad ivrea e la cosa che mi fa sorridere che sto aspettando un altro pacco che è fermo sempre lì da loro di beauty space nail erano tutte e due lì ma me ne hanno portato solo uno e un altro di un sito di belle arti che è sempre fermo lì ma me ne hanno portato solo uno io non lo so come cacchio lavorano tu chiami gls loro ti rimbalzano come se tu fossi un deficiente ma vabbè finalmente ce l'abbiamo fatto il pacco e qua e vi vado a mostrare cosa ho comprato sicuramente penso che dividerò il video in 550 parti perché ho preso un botto di roba qua dentro ci sono la bellezza di 70 euro ho approfittato del black friday per prendere un po di robine e niente partiamo allora vabbè vi faccio vedere subito l'omaggio mi hanno mandato una lima grana non è dato sapere comunque gli omaggi sono sempre graditi andiamo ad aprirla vediamo un po com'è a deve essere boh forse anche più di 180 perché bella strong comunque poi sempre parlando di lime ho presi buffer adesivi in tipo le lime di passione unghie usa e getta però ho preso il buffer perché che ha preso anche quattro legnate è rovinatissimo va bene ok vabbè importante che funzioni comunque questo è il supporto per attaccare i buffer e l'ho pagato adesso ve lo dico dove sei ah sì allora ho pagato tutto il kit ci sono 36 buffer e più questo cosino di plastica per carceli sopra 9 euro e 95 allora dicevo l'ho preso perché il buffer classico quello il rettangolo ozzoli o veramente segni sopra il nome di chi con chi l'hai usato o se devi usarlo da una cliente all'altra mi fa un post house cliente tra una persona e l'altra mi fa un po schifo e quindi poi andrebbero buttati almeno con questo ne usi una volta e voilà e questo era uno e ho preso i bar ad appiccicarci sopra di tre grani diverse che adesso non me le ricordo comunque era 240 180 e un'altra misura mi pare comunque se andate sul sito la trovate questo era tutto il kit così e avete 246 12 baff per pacchettino quindi totale di 36 l'ho trovata una cosa molto intelligente adesso proviamo attaccarne uno vediamo come la funziona questa roba qua tutto sigillatissimo mi spiace un po perché mi sono lamentata per le consegne con beauty space nel loro mi hanno risposto che continuano a mandare solleciti ma gls si comporta male per essere carini adesso ho preso quello grana più madonna cina questo va bene anche per essere 180 questo perché bello strong comunque ho tolto la di vino adesso l'impiccichiamo se non facciamo danni ce la faccio non ce la faccio ce la faccio si va beh ho attaccato un po così ma provvedete poi avete anche la un'impugnatura bella comoda e voilà e poi aspettate che faccio un po di post che mo qua tutto romenco è le cartacce di qua la roba di ho preso questo sigillante quick glossy senza dispersione e l'ho pagato perché lo trovo che sto messo a ringoioni sigillante qui classi 9 euro 90 pagato un po tanto rispetto agli altri però volevo provarlo ed ecco così calcolando che è stato sul camion al freddo chissà d'estate mi sembra decisamente liquido premetto che i pacchi dietro aperto il camion il mio era piccolino era sotto altre 3000 cose i pacchi buttati proprio vabbè spero che li abbiano imballati tutti più che bene a tutti voi perché è veramente il disastro comunque niente adesso la mola qui e ci vediamo al prossimo video perché qua dovrò farne tipo 380 ciao